433, calzature italiane per eccellenza, qualità e design, comfort e leggerezza, sono i tratti distintivi di 433. La collezione 433 è dedicata all'uomo che vuole affascinare, con uno stile elegante e casual, costruita solo da mani italiane. 433 vi aspetta a Montefiore dell'Aso, in contrada Menocchia numero 5. I modelli della 433 sono disponibili presso la boutique Colli Uomo, a San Benedetto del Tronto, in viogo Bassi numero 9. www.433.it La prestazione è sfortunata, oltretutto è che stavi appunto dicendo, l'ho messa dentro io. Sicuramente sono amareggiato, nel quanto che nel primo tempo è una partita equilibratissima. Un episodio sul cross, purtroppo è andata a metterla dentro, sfortunatamente. Nel secondo tempo meritavamo sicuramente di più, visto che la Reggiana si è chiusa dentro, noi meritavamo benissimo il pareggio. Secondo me è una scoffitta non meritata. Senti, ecco, nell'azione del gol, palla schierata, tu sei andato per anticipare Ingari, hai preso la palla con la parte alta della testa e hai messo proprio nel palo lontano. Eh, purtroppo sì. Quasi un attaccante maticato. Sono stato, sì, ho visto la palla dietro, sono salito, poi nell'anticipo l'ho presa male e l'ho messa dentro. Purtroppo sono stato sfortunato che ho preso anche il palo e quindi è incolpevole d'Azzi perché purtroppo stava lì e non si aspettava. Fincemente non mi aspettavo neanche io. L'ho presa lì e la palla è andata dentro, purtroppo. Senti, oggi sei tornato a giocare nel tuo ruolo naturale, dove hai giocato a Gubbio di centrale difensivo. Come ti sei trovato, oltretutto in una difesa inedita a 5? Ma, sicuramente bene. Il ministro ha spiegato bene i movimenti. All'inizio magari un po' di tensione c'è, visto che non giocavo da tempo, comunque la prestazione è stata positiva di tutta quanta la squadra. Quindi ringrazio loro soprattutto per la prestazione e anche il ministro. Senti, ecco, San Benedetto hai sempre giocato finora come centrocampista, un ruolo che ricoprivi all'inizio della tua carriera. Oggi, diciamo, nel tuo ruolo naturale, tu sei un centrale difensivo e è quello che vorresti fare a San Benedetto. Ma non è importanza il ruolo. L'importante è quando sono schierato che do sempre il meglio. Sia in difesa che al centrocampo, ripeto, non è importanza. È importante che do un contributo positivo alla squadra. Quindi sia a Tersino che al centrocampo l'importante è che do una mano ai miei compagni. Senti, anche se la Samba viene da quattro sconfitte consecutive, il Natale per i tifosi, diciamo, è quasi, c'è quasi un, ho visto la prestazione di oggi, un voler essere ottimista, un voler essere positivo. Ma sicuramente la prestazione di oggi in confronto alle altre va sottolineata. Se affronteremo le altre partite con questo spirito penso che ce li salveremo facilmente. Grazie. Grazie. Grazie.